C'è sempre qualcosa da scoprire, io sono vent'anni che mi occupo di lui e ogni giorno c'è qualche cosa di nuovo. Quest'anno in particolare noi scopriamo o riscopriamo la sua biblioteca. Il Vittoriale, insieme alla Regione Abruzzo, ha compiuto un'operazione, devo dire, straordinaria, comprando la più grande collezione di documenti e di libri esistente fuori dal Vittoriale. Un collezionista che era il signor Paglieri, quello della Felcia Azzurra, è stata una trattativa lunga e difficile, ma alla fine il Vittoriale ha ottenuto dei documenti inediti, oltre mille lettere che ci interessavano molto, e la Regione Abruzzo ha avuto 15.000 libri, oltre a una quantità di documenti importante pure, che il Vittoriale integrerà con altre cose, in modo che finalmente in Abruzzo e a Pescara nascerà la più importante biblioteca danunziana che ci sia in Italia.